Benvenuti in questo nuovo video e oggi vediamo SteamWorld Dig a Fistful of Dirt Allora, un gioco che si trova su Steam ha circa 9 euro, 8 euro, 9 euro Abbiamo messo qua tutti gli effetti sonori e visivi E' la prima, e ripeto, prima volta che lo eseguo Quindi non so minimamente come si gioca Faremo probabilmente assieme il tutorial Inutile guardarci il filmato Perché a quanto pare su YouTube non si possono mettere i filmati di intermezzo Quindi lì saltiamo Mi senti YouTube, ho saltato il filmato di intermezzo Questo è un gameplay commentary Quindi non rompere le balle Non credo che uscirò da dove sono entrato Potrebbe far parte del minore mio zio Credo tutto quello che gli serve una mano di vernice Sarà meglio esplorarlo prima che Prima che quel che rimane della mia luce si spenga Ok, ultimamente vanno i giochi in cui si fa Nerd scavatore e gli zombie, insomma, i survival Sono tutti così Questo sembra carino, comunque Grafica carina Mi spiace signorina mio zio mi ha mandato la concessione Leggetevelo voi Tenne rotto le palle Ok, andiamo avanti Come si mena, come si picchia Cammina Wapu Addirittura si cammina con le freccette Aspetterò qui Ok, vediamo se non moriamo Già appena iniziamo Ho preso un coso di fuoco Ho preso Ah, la luce immagino sia Qui c'è un tizio morto E io gli rubo il piccone immagino No, già ce l'ho Odio di rubarti del bottino Il tuo piccone Mamma mia, come sei scontato Ho acquisito un piccone vecchio Vediamo un po' Come si insemena col piccone Con la B Ok, con la B posso picchiare Wow, scaviamo Nerd scavatori alla riscossa Ok Poi Ehi, ciao Vedo che ho trovato un piccone Non è stata seppellita Dovrebbe avere una galleria sotto di noi E noi andiamo subito a scavare il mondo A meno che il piccone Non si... Ah, sopra in alto c'è un coso di fuoco Quindi immagino sia la luce che termina Ma che prendiamo se pigliamo le luci Io sto scavando come un nerd scavatore Classico Vediamo un po' Il Minecraft dei poveri Scendiamo giù Intanto la luce si affievolisce Qui c'è la famosa leva che dovevamo trovare Questi sono i classici tutorial Picchiamo su E wow E adesso come minchia ci torno lì sopra Salto della parete Ah, così proprio Wow Sì, è fatto di merda però Ok Ah, così proprio Ma vabbè Sì Allora, andiamo avanti E dovremmo essere Vicini all'uscita Ma qui c'è dell'altra roba Quindi in teoria o vado Ah, qui c'è dell'oro qua Che cos'è? Che mi dai? Rifiutonio Un dollaro Ottimo, sono ricco Ok, sono tornato sopra C'è la mina qui Qui c'è la mignotta Mignotta Bello vedere un molto nuovo città Specialmente Ho detto che era una mignotta Non riceviamo troppi nuovi arrivati La gente di solito trasloca da altre parti Se costi c'è essi in giro Tu sei il nuovo minatore Ah, perché c'è un minatore per Vabbè Lascia Lì c'è il saloon Qui c'è la tizia Che probabilmente mi bomberò Alla fine della Ha affrontato questa minera Era un vero professionista Ma ho fatto un cazzo Dal momento che sei nuovo proprietario Con tutto quello che ne consegue Forse dovresti tenerla aperta Anche tu la tieni troppo aperta Riportami i minerali che trovi Ti ricompenserò adeguatamente Questa città Può servirsi Mi chiamo Dorothy Qualche pietra preziosa Ok, livello 1 successivo 8 dollari Ok Come si fa? Devo ritornare giù? Oppure posso andare di qua? E il macino Tumbletong Vabbè Torniamo indietro Andiamo alla C'è la mappa con la freccia E mi dice di andare giù Quindi scendiamo giù Ma andando su Vabbè E niente Ho a palla la Che è quello? Un fossile? Che cazzarola è? Mi fa male forse? Vediamo un po' Questa è una specie di puzzle game Alla fine Vediamo se Ah C'è la sorpresa Insomma Sto a 5 metri Vabbè Piamo 8 cosi di rifiutonio Per arrivare a 8 dollari Immagino Siamo a 2 dollari In basso è segnato Quello che abbiamo Che ci serve Insomma Qui abbiamo un altro fossile Che ci ha dato Dell'altra luce Forse Conveniva Farla dopo Vabbè Continuiamo a scavare Come dei nerd Maledetti Ma si può scavare qua in Ah Ah quindi non può Ah Quindi io non posso Scavare qui Mentre Quindi O si va giù O si va giù O si torna sui propri passi E cazzo Cazzo Ma cazzo Ma perché? Ma ditemele prima Ste cose Ragazzi Io lì per esempio Non ci posso scavare Quindi qua mi sono fatto Un saccoccia Andiamo giù Ok quindi Devo capire Quel coso lì Perché si è risvegliato Ok Piamo sta roba Che non si rompe Forse perché ho una piccozza Che fa schifo E adesso? Mi sono incastrato? Vendi il bottino Eh ma sto a 7 Devo arrivare a 8 Ok saliamo su Facciamo un'altra via Eh sembra una stupidaggine Ma non lo è Perché il problema è che Allora io qua ci devo arrivare da Così Ok Abbiamo ripreso un po' di luce Siamo arrivati ad 8 Così Perfetto Andiamo su Perché poi Noi non possiamo tornare Tipo io quello lì Me lo posso fare solo Se riesco a trovare una via Per trovare Per tornare Insomma Vabbè Saliamo su Vediamo che succede Mignotta Eh sto capendo Non è molto difficile Ma vabbè Livello successivo 8 dollari Vai Miglioramento sbloccato Piccone affilato Che si compra Da questo tizio Immagino Ho qualcosa su cui lavorare Piccone affilato 8 dollari Affilare quel piccone per te Ti permetterà di scavare Ragazzi Quella che Oddio È una gamba rotta Di questo tizio Sembrava un'altra cosa Vabbè Vabbè Compri qualcosa o no Se mi dai la possibilità Brutto stronzo L'ho comprato? Ok Io voglio il piccone Ah con la Sì Ok Io stavo cercando Di fare con la B Perché con la B Si fa Vabbè Torniamo giù Adesso è il piccone affilato Posso rompere Ah posso rompere anche Questo tipo di muro qui Quindi posso andare a Sono ultra potente adesso Questo piccone affilato A meno che non dura Poco Rifiutonio Sembra il nome di un Rifiutonio cartonio Possiamo andare qui Sì Ah questo è ancora più dura Di quell'altra Però ragazzi Con il mio piccone affilato Adesso non mi ferma più nessuno Citrino Ah wow Ho preso della roba più Preziosa Eh ma questo è One shot proprio E lì ci sono Delle pietre Che però Non so se posso rompere Allora Qua facciamo così Perché se rompo Il pezzo da sopra Mi fa male Il tizio Invece Se facciamo così Riesco a Eh lo sapevo io Quanto ho fatto Fino e mo Non mi segni Perché non mi degna Ma Ma perché Muori Muori bastardo Ok Qui ce n'abbiamo un altro Non lo so che succede Se gli faccio da sopra Ma Ah si rompe lui Ed esce Che poi Che animale è Scusatemi eh Ma vorrei capire Che animale è quello Non c'è spazio Ma vai a cagare Allora Ah e come salgo Sopra adesso Ok Comunque questo gioco Ha preso Abbastanza voti positivi Quindi Sicuramente Sì Sto già per bestemmiare Ragazzi eh Allora Sicuramente È meno Sarà meno frustrante Di spelonchi Già a vederlo Così Di primo Di primo acchitto Però Non è detto Allora Vendi tutto Fai attenzione I mostriciattoli Si sono scatenati un po' Ok Ho venduto tutto Così ho anche Dello spazio Però Devo tornare giù Quindi la mina È sempre questa Cioè la mina La miniera Non la mina La mina è quella che scoppia Andiamo giù E prendiamoci Questa robaccia qua Questo è più duro E giù c'è la caverna Forse che diceva la tizia No Di qua no Ecco Prendiamo quelli che non ho preso prima Ah per fortuna è rimasto quello di prima Quindi Buono Rame Rame Vediamo se il mostro Rompe Ah che palla Se faccio così Ok No su C'è il fuoco Che però Non mi conviene prendere subito Mi conviene prendere dopo Io qua sopra Non posso Ah no Quello devo prendere subito A forza Ok Come non Discussa Discussa Ah lì c'è la famosa caverna Che diceva la mignola Oh Ragazzi Attenzione Suspense Praticamente stavo per crepare Sotto la pietra Eh vedete che Più si va avanti Più comincia a cambiare Un po' il discorso Allora io prima di scendere qua Direi di andare a vendere la roba Ma già mi sono rotto le balle Di fare avanti e indietro Ah e qui come cazzo salgo Oh Gesù Oddio mi sono bloccato Devo fare Cazzarola ragazzi Mi sono fregato da solo Come risalgo Vedete che non è facile Questo maledetto gioco Vediamo se riesco a farmi Se c'ho qualche cosa Di lato qua Se c'avevo una cosa Che ho fatto prima No Vabbè Dobbiamo forse Entrare lì sopra Perché non so O sono io idiota O non capisco Come cazzo si risale Vabbè Andiamo qui Solo che non ho spazio Ok Qua cadono le pietre Io volevo fare il furbo Ma sono Sei stato distrutto Ah ok Per fortuna Non si perde Ok Scusatemi Faccio così Ah si rompe da sole Vabbè ma sei stronzo Allora Vedete che i pericoli Qui aumentano Ragazzi eh Ma che è sta roba Ok Questo che è Non lo so Non si è capito Qua si cade E sotto c'è Niente ma Eh che cazzo Non cade che tutto Io voglio salire qua sopra Eh Guardate ragazzi Qui c'è In sola Vabbè diciamo Un giochetto vecchio stile Su Eh Che fai Non la prendi Sarò Lì c'è una palla verde Sarà probabilmente Un coglione di Hulk E non ci posso andare Perché non c'ho La piccozza potente Devo comprare Il potenziamento E cazzarola Ho detto che sto gioco Sembra facile Ma non Eh che cosa ho trovato Cos'è questa roba Wazz Stivali della velocità No vado come prima Ah no no Posso premere con la X E posso correre E Vola 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 Via Lì sotto Vabbè Io direi di salire Prima di Prima che muoio Però Eh io salgo ma Che è qua Corri più salta Ah posso saltare Più in alto Prima Ok così tipo E vado A fare Cosa Ah questa Ah ecco la bombetta Vediamo che cos'è Ma va Ah no Mi ha dato tre Cosi Che sarà tipo Ma se scendo qua Torno indietro Giusto Ah posso tornare Alla Ok perfetto Ecco e adesso Vorrei capire io Come risalgo su Vado di qua No Ma Scendo giù Vorrei risalire su Anche per capire Che minchia Devo fare Non c'è spazio E grazie Volevo vendere la roba Infatti Non me la fai vendere Sto facendo Sto facendo Dei buchi Assurdi Cioè tipo Questa cade No Quella si però Quello si è rotto Eh Ah facciamo così E io immagino Che l'uscita Sia da qualche parte Qui almeno lo spero Perché altrimenti Non so minimamente Dove cacchio andare Anche perché Non ho più spazio Sarò io Deficiente Ma non riesco a capire Come uscire Da questa situazione Sto andando sempre più giù Anziché tornare su Probabilmente Non ho la minima idea Di come si risalga su Eh ma qua mi dice Di andare su Come cazzo Allora ci arrivo Ragazzi aiutatemi Ah no Non è una live Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Se riesco a salire da qui Secondo me c'è qualcosa Che io non ho capito Come si fa Perché altrimenti Non si spiega Oddio forse con la corsa Posso fare qualche salto Strano tipo così Oddio ragazzi Con la corsa Sì Ci sono riuscito Andiamo a vendere Questa roba Se capisco Dove cazzo All'uscita Ah lì c'ho la mappa Vedi Non l'ho neanche guardata Yeee Forse ce ne sono altri In qualche parte Della miniera Ok Intanto Andremo a livello successivo Come minimo Ho sbloccato Sacca media E la lampada Ciccio Che mi dai Non so quale Maneggiava cose strane Tu che c'hai Il pizzuco di fuori Lì Cosa ti va Allora 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 Salute Piccone di rame Io quanti soldi Ho 37 Sacca media Scala Puoi impilarle Una sull'altra Per uscire Da situazioni complicate E che non sarebbe male Puoi evidenziare Un punto che vuoi Mantenere illuminato Con queste lampade mobili Allora Io subito Prenderai Il piccone di rame E poi Mi sono avanzati 7 soldi Wow Sono ricco Potrei prendere O due lampade Per segnalare Delle cose O una scala Piamoci la scala Va Ok Adesso devo andare Ad esplorare la grotta E vedere se trovo qualcosa Di nuovo E di carino Nel saloon Ma si Si tromba Ehi Pupa Vabbè E se vado di qua Che succede? Ok Ovviamente Non mi fa andare Però in teoria Poi dovrei sbloccare Altre cave Quindi si va avanti E si gioca Questo gioco è disponibile Su Steam Play Quindi Windows Mac OS X E Linux E non sembra malaccio Dai Sembra un po' Una puttanata all'inizio Però secondo me Da definire Un puzzle game Adventure Platform Anni 80 Tipo Vabbè Comunque il gioco è questo Se volete Continuiamo i gameplay Volete? L' Tenset Mi 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 Mi